La regione Campania rischia di ritornare in zona rossa e a causare questa situazione potrebbe essere, secondo il governatore Vincenzo De Luca, anche il ritorno in classe degli studenti degli istituti superiori che rientreranno appunto nelle aule da lunedì prossimo. Un grido d'allarme che De Luca ha lanciato dalla sua ormai solita diretta social di fine settimana, un intervento che era molto atteso proprio per capire l'evoluzione della condizione dell'emergenza sanitaria in Campania, con i contagi che recentemente erano stati in diminuzione, ma con la preoccupazione crescente che è tornata negli ultimi giorni a causa di un nuovo innalzamento dei casi di positività. De Luca ha parlato di rilassamento grave da parte dei cittadini, con un livello di positivi che si è elevato e quindi col rischio di dover richiudere tutto. Ha chiesto comportamenti di estremo rigore De Luca, preoccupato poi per l'apertura delle scuole secondarie anche perché le varianti del virus potrebbero provocare nuovi danni con le misure adottate finora che potrebbero non bastare più. De Luca ha anche commentato l'attuale situazione politica nazionale parlando di un mercato della politica, di una pagina vergognosa per la democrazia italiana, ammonendo alcuni ministri del governo che non sarebbero presi nemmeno come parcheggiatori abusivi. Battute a parte, De Luca è stato molto critico poi sulla gestione dei vaccini. Se la situazione rimanesse quella attuale, attuanato il presidente di Palazzo Santa Lucia, la copertura vaccinale potrebbe concludersi non prima del 2022. Questo perché non vi sono assolute certezze sulle forniture. Grazie a tutti.